Attivate all'inizio della final eight con i favori del pronostico, ma chi ha i favori del pronostico non è mai in realtà tranquillo, anzi forse ha più pressione, ce l'avete fatta, siete inquinata. Sì, 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 non abbiamo dato l'ascolto ai pronostici perché siamo anche abbastanza scaramatici da questo punto di vista. Ci aspettavamo una partita durissima, è stata sicuramente una partita dura, siamo partiti però molto bene, uniti e fino all'ultimo abbiamo giocato. Abbiamo giocato, giocato, giocato e finalmente siamo al finale. Domani c'è Fressano, è l'avversario che conoscete di più di questa final eight, che partita che aspetti? Beh sicuramente proprio questo è il fattore, conoscendoli bene anche loro conoscono bene noi, quindi sarà secondo me chi fregherà prima a chi, quindi ognuno sa i pro e i contro della squadra.